25 morti bianche dall'inizio del 2019 in Emilia-Romagna, al picco a Parma con 6, Bologna e Piacenza ne contano 4 ciascuna, Reggio Emilia 3, Ferrara, Forlicesene, Modena 2, Rimini, Ravenna 1. Numeri agghiaccianti che non possono e non devono lasciare indifferenti, commenta il segretario generale dell'UGL dell'Emilia-Romagna, Tullia Bevilacqua, che annuncia iniziative per sensibilizzare opinione pubblica e istituzioni. Il calcolo, avverte l'UGL, non tiene conto dei decessi in itinere e sulle strade tutti gli anni più del doppio in ogni provincia e la tendenza del 2019 è di un aumento generale dei casi del 5,9%. Dall'inizio dell'anno in tutta Italia 455 morti sui luoghi di lavoro in tutta Italia da nord a sud, stando alle cifre pubblicate sul web dall'Osservatorio Indipendente di Bologna. Nel 2018, hanno record in negativo più 10%, si sono contati 702 morti sui luoghi di lavoro, oltre 1.450 se si includono anche i morti sulle strade e in itinere. Negli ultimi 11 anni sono morti quasi 15.000 lavoratori, come se fossero scomparsi nel nulla tutti gli abitanti di una cittadina emiliana come Sasso Marconi. In Emilia Romagna, il segretario generale regionale dell'UGL chiede agli organismi competenti che si adottino maggiori e più efficaci controlli e ci si adoperi nelle sedi preposte a promuovere con ogni mezzo la cultura della sicurezza nei luoghi di lavoro per arginare e possibilmente azzerare questa dolorosa piaga sociale e professionale.